Oggi un saluto speciale a noi donne, buon 8 marzo. I lavori dell'aula di questa settimana, come sapete, sono stati dominati dalla riforma elettorale che ci impegnerà anche all'inizio della prossima settimana. Non sta a me pronunciarmi per una soluzione o l'altra, sta alle forze politiche scegliere su premi di maggioranza, soglie di sbarramento, liste bloccate, preferenze. Io devo invece far rispettare l'esigenza che ad una decisione si arrivi, perché la riforma è attesa da molto tempo e questo ha contribuito non poco a peggiorare i rapporti tra i cittadini e i partiti. Gli impegni presi con l'opinione pubblica vanno mantenuti e tutti i gruppi si erano impegnati ad una riforma, tanto più dopo la sentenza della Corte Costituzionale. Spero che la nuova legge sappia rispettare anche la parità di genere. Le donne sono la metà del Paese, dunque non è strano che vogliano essere la metà della rappresentanza parlamentare. Abbiamo due articoli della nostra Costituzione che ci spingono in questa direzione. L'articolo 3, cioè tutti i cittadini, sono uguali senza distinzione di sesso. E l'articolo 51, che impegna alla promozione delle pari opportunità. La riforma della legge elettorale è l'occasione per dimostrare che questi due articoli li prendiamo su serio. Insomma, voglio dire che il cambiamento si deve tradurre in azioni concrete e questa è un'ottima opportunità per farlo. E a proposito di questioni di genere, anche il Palazzo Montecitorio viene investito e coinvolto dalle celebrazioni dell'8 marzo. Qui oggi alla Camera Lucia Annibali, la giovane avvocata di Urbino che ricorderete dopo essere stata sfigurata con l'acido da due sicari che sarebbero stati mandati dal suo ex compagno, ha scelto di testimoniare pubblicamente, con straordinaria forza, il suo rifiuto alla violenza. E domani il Palazzo della Camera si aprirà alle visite dei cittadini. Quindi succede una domenica al mese, ma stavolta Montecitorio a porte aperte, come si chiama l'iniziativa, sarà in edizione speciale dedicata proprio alle donne. Anche questa settimana, nonostante il fitto calendario dell'Aula, non è mancata l'occasione per una presenza sul territorio. Questa volta si tratta di Perugia, all'apertura dell'anno accademico dell'Università per stranieri. quasi 90 anni fa, immaginate quando la parola globalizzazione nemmeno esisteva, con un'intuizione veramente felice, nacque questa università. A Todi invece ho partecipato alla cerimonia per il 150esimo anniversario del più antico istituto agrario d'Italia. In queste due città, infine, ho incontrato i familiari di Margherita e Daniela. Lo ricorderete, le due impiegate regionali uccise sul posto di lavoro un anno fa. A loro ho espresso tutta la mia vicinanza, anche a nome della Camera dei Deputati. Bene, grazie dell'attenzione e ci rivediamo la prossima settimana. Grazie.